Buongiorno a tutti, sono Cristina Sperlari e vi presento nel cuore dei saperi il nuovo sussidiario delle discipline per le classi quarta e quinta primaria di CETEM, gruppo editoriale ELI. Ve lo presento io perché faccio parte del team autoriale, in particolare insieme a Luisa e Lameda mi sono occupata del sussidiario di scienze e il team autoriale è lo stesso di mondo 20-30. Vi mostro la configurazione del sussidiario, abbiamo quattro sussidiari riferiti alle quattro discipline con quaderno operativo integrato più un atlante biennale di storia, geografia e scienze. Partiamo da storia e geografia, vi mostro come sono fatti i vari volumi. Allora, storia e geografia partono con un raccordo con la classe terza, quindi abbiamo pagine iniziali che consentono un ripasso. Come vedete le pagine sono molto pulite, il linguaggio è semplice ma curato e c'è una grande gradualità nell'affrontare i contenuti. I libri di storia e geografia dialogano molto tra loro, soprattutto per quanto riguarda l'acquisizione di un metodo di studio per i bambini. Vengono proposte diverse strategie proprio per abituare i bambini a scegliere il proprio metodo di studio. Si lavora molto sulla cartografia, ci sono gli indicatori di civiltà, analisi delle fonti e linee del tempo e come vedete ci sono delle immagini molto chiare, pulite, immagini anche fotografie, vi mostro le prossime per esempio, le prossime pagine che aiutano i bambini a comprendere meglio e medesimarsi a scoprire anche aspetti per esempio del proprio territorio italiano o aspetti in generale sui contenuti che si stanno affrontando. Ci sono rimandi all'agenda 20-30, queste per esempio sono le pagine dedicate all'educazione al patrimonio. Vengono proposte attività all'interno dei vari capitoli con metodologie attive, fanno uso di metodologie attive, ad esempio attività cooperative, situazioni non note, attività di debate, quindi tante attività diverse che supportano gli apprendimenti. A chiusura di ogni unità abbiamo una sintesi, una mappa da completare e infine le attività di verifica e anche di autovalutazione del proprio percorso. Per quanto riguarda la matematica si fa uso nello specifico del laboratorio. Il laboratorio è inteso come contesto di apprendimento e modalità di lavoro, è sicuramente un approccio metodologico innovativo ma sicuramente consolidato. Vi mostro come viene proposta un'attività ad esempio. Si parte da una situazione problematica, si continua con un approccio operativo manipolativo, quindi una situazione per i bambini da realizzare nella pratica con degli strumenti o dei materiali anche molto semplici e poi si arriva infine alla condivisione collettiva delle riflessioni, quindi a dedurre la regola, la regola o il contenuto che sta dietro alle attività svolte nella pratica. Infine si passa al consolidamento degli apprendimenti. L'insegnante quindi si pone come mediatore. Ecco, gli esercizi per esempio nel quaderno operativo, ma non solo, non richiedono mai un'applicazione meccanica dei contenuti ma propongono modalità esercitative sempre differenti. In particolare nel quaderno operativo abbiamo due livelli di difficoltà. Si riconoscono dalle stelline che vedete indicate lì in alto. Allora abbiamo un primo livello di difficoltà dove si richiede un consolidamento delle conoscenze, dove viene proprio richiesto di consolidare le conoscenze apprese. Poi si passa a un secondo livello di difficoltà, vedete, con due stelline, dove si sviluppano le competenze, quindi si va oltre alle conoscenze e l'abilità. Abbiamo poi delle pagine speciali come le pagine problematicamente, dove c'è sempre un testo di un problema e vengono date delle indicazioni su come risolverlo. Poi ci sono delle pagine di matematica giocosa e delle pagine raggiocando, proprio di matematica ludica ma anche logica, dove ci sono attività di logica vera e propria. Passiamo a scienze, che è la parte che mi ha coinvolto insieme a Luisella Meda, che siamo le coautrici di questa parte. Allora, qual è la novità? Ci sono numerosi esperimenti che seguono le fasi del metodo scientifico, quindi troverete veramente tanti esperimenti da realizzare in classe. E l'importanza dell'osservazione diretta, perché si parte proprio dall'osservazione di alcuni fenomeni e poi si arriva a dedurre che cosa accade, cosa succede. Ci sono pagine speciali STEM, dove ci sono attività da costruire, da realizzare insieme ai bambini, che poi sono sempre molto operative, quindi poi alla fine c'è sempre una parte di ragionamento o una parte da sperimentare insieme ai bambini. Inoltre, altra novità, si lavora su l'angolo della, cioè l'angolo della fisica, l'angolo della botanica, l'angolo della chimica, quindi viene sempre proposta la scienza, la branca scientifica a cui si fa riferimento, quindi si mostrano le tante scienze che ci sono nelle varie scienze. Poi da lì si parte con la storia di uno scienziato o di una scienziata che ha realizzato qualcosa di importante e da lì si passa a un esperimento introduttivo che chiarisce bene che cos'è questa scienza e di cosa si andrà a parlare poi nel capitolo. Ci sono pagine chiare di sintesi per la chiusura delle unità, delle tappe, delle mappe, scusate, tappe in mappa che è la la mappa da completare e infine le verifiche. Altra curiosità di questi sussediari sono le pagine di storytelling che non sono dei semplici intermezzi tanto per, ma sono proprio delle pagine di approfondimento che partono sempre da una storia per poi arrivare a un contenuto, un'attività da realizzare. Queste in particolare sono di storia e geografia ma ci sono anche di scienze e anche qua si passa dalla storia, dal racconto per arrivare a un'attività laboratoriale specifica, poi attività anche di matematica, le storie di matematiche con poi i problemi da svolgere alla stessa maniera per esempio di Pitagora. Infine abbiamo l'Atlante che si basa, che basa principalmente sull'intelligenza visiva, quindi abbiamo tante tavole dettagliate, approfondimenti, percorsi trasversali, mappe infografiche e una cartografia anche muta interattiva. Ecco terminiamo con la configurazione per l'alunno, abbiamo i quattro sussidiari, ciascuno ha il quaderno operativo integrato e l'Atlante per le classi quarta e quinta biennale di storia, geografia e scienze. Ecco invece la ricca configurazione del docente, abbiamo le guide per ogni disciplina, i percorsi STEM, la copia assistita di matematica con gli esercizi svolti, i percorsi semplificati e i manuali valutare oggi, poster e attività semplificate per il sostegno. Io vi ringrazio e buon lavoro a tutti!